I'm so feel the power I'm so feel the power sul settore di destra offensivo, questo pallone che poi è stato buttato al centro, togliate, palla a fondo campo, punta l'avversario, sul binario Mancino, Battumilelli, il traversare buono, blocca, Lombardo, con presa sicura, trentaduesimo minuto di gioco, funzione dal vertice sinistro, palla in aria, la gira senza trovare lo specchio della porta, su imbeccata di cavallo, già provato, il numero 9 Passariello, qui ha la possibilità dal fondo, l'opologo, blocca, Lombardo dopo una indecisione, il settore di sinistra, ancora in aria, la versa pericolosa, in aria di rigore, o c'è la deviazione sotto misura, da parte di Passariello ancora, con palla a lato, con la possibilità per andare alla conclusione, blocca a terra il Giappone, Tieto Minelli, la possibilità di andare ad altra persona, con la Tupinelli, il cross in questo momento, e poi non ci arriva, però è un non nulla, Rotella, ho l'appuntamento con il pallone, palla a fondo campo, sempre 0-0, palla per Limonelli, la finta, la dubbia, cadere gli avversari, va il 28, serve Tupinelli dentro, il succedimento per la Monaco, che ha fatto un altro movimento, il rilancio lungo di Giappone per Cabonaro, posizione regolare, seccolato, pulisce terra, che è fuori gioco, e arriva in questo momento il dubbio c'è fisco arbitrale, si va negli spogliatoi, il parziale del primo tempo.